Un pensiero per Amsic, capitano storico del Napoli? Eh lo so, questo è un pensiero non poetico chiaramente, ma è un pensiero di spiacere per Marek Amsic che va via perché dal 2007 è bandiera della nostra squadra, un grande capitano, una persona rimasta nel cuore, rimane per sempre nel cuore della nostra città e chiaramente i calciatori nella loro vita sempre più spesso scelgono lidi sportivi evidentemente dove si hanno maggiori soddisfazioni non tanto calcistiche ma di tipo anche economico, sono scelte professionali che vanno rispettate, certo a me mi avrebbe fatto piacere poter contare su Amsic fino alla fine della sua carriera calcistica ma comunque l'abbiamo tenuto con noi davvero per tanti anni e ha dimostrato di essere un napoletano a tutti gli effetti.